A nome della RAI ritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto che deve esprimersi attraverso tutte le forme d'arte e attraverso tutti i pensieri che ogni individuo può avere, ma sempre a nome della RAI, ma anche dei vertici, anche sul mio nome, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato soprattutto nella gestualità. La testualità può avere una libertà espressiva ma la gestualità può fare molto male quando diventa un attacco personale che io contesto fortemente e che il servizio pubblico non può ammettere.